Eeeh Allora Stai già riprendendo Stappami qua Ciao Phil Gli ho preparato tre itinerari Eeeh Il primo che è per i nabbi Il secondo per i secondi nabbi E il terzo... Facciamo quello per i nabbissimi No Facciamo la ballarsa Ok Anche se ti fermo da te io vado avanti Eeeh 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 Mi sa che farò pausa a carta appena arriviamo Eeeh 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 Dove pranziamo? Eeeh 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 oh no oh è bene non mi tocchi il mio casco ok eduardo che è ma la sai accendere vai piccola vai piccola totellino vai piccola vai piccola a io la gamba un gran po' bra vai piccola andiamo sei pronto Pidge la guido io è calda no non mette la canzoncina ah ma c'è quello dietro ecco perché è carino qua che altro c'è se arriva la polizia perché poi non è un problema per me tanto non è un problema per me ma ti metti ok come è meglio se lo provi senza pauletto cambia tanto ha più cavalli si pedivella fra pedivella vai perché non so la freccia andiamo è vero che carino si rifiui ad accendere il tuo polpo ma oh tagliare e fai che l'accendi il tuo polpo aspetta che mi piacciono i tuoi freni edu che non va un cazzo ma va ma non bisogna tenere la frizione sei in folla o no? hai la pediglia? ma ha sempre usato eh ciao secondo me lo usa bene adesso si schianta contro una macchina io provo il dominator e si offende no ma il dominator guarda che fa paura e è vero ma fa paura perché è vecchio o fa paura perché è potente? fa paura perché è potente ed è vecchio le due cose insieme non fanno mai vero tu glielo schianti no la droga oh è stupenda io avevo ragione si pensavo prendesse per il culo è bellissimo oh cazzo oh è una figata basta ho paura io il video non rende l'idea bellissimo stra carino che figata no che schifo ma lo senti quello che dici lo senti quello che dici con la moto di Edo ciao ma è rai ancora e basta è racing come il VR grazie di tutto campione questa è Vicenza in full hd questa è Vicenza in full hd io tutto della robocina questa è campione questa è campione Grazie per la visione!